rievolgiamo il nastro e rivolgiamo insieme le emozioni più importanti della prima giornata di campionato la partita inaugurale tra Fiorentina e Napoli al Viola Park arriva il Napoli che si è salvato Bocchete, stop ad inseguire è magnifico, quando lo stop è tutto tesi di Veronica Bocchete per Aianoghi che si allunga troppo il pallone, qui lo stop è difettoso arriva questo pallone però sul secondo palo Bonfantini si presenta così al Viola Park, al Mondo Fiorentina vantaggio 1-0 al decimo minuto per la squadra di De La Fuente attenzione però perché il gol è annullato il cross sul secondo palo si muove molto male ottima qui l'apertura per Bonfantini bravissima per Linghelli Ergen ci riprova si ripassa la Bocchete studia la giocata l'appoggio per Breitner Ergen ancora l'ex Milan finta, va sul sinistro attenzione perché lì può calciare ci ripensa cerca di andare sul destro prova la presa di Bacic è sicura in bello stile poi chiude la porta per la Fiorentina Savassandir Veronica Bocchete con questo destro a giro una traiettoria che tocca corto si muove la difesa azzurra palla allargata per Feo ora a destra all'indietro Snerle si è giusto il pallone il cross il colpo di testa si è provato Bonfantini ora quasi sotto punta palla a cercare Ian Oghi brava Pellinghelli a toccare poi Bocchete imprevedibile dentro per Ian Oghi Ian Oghi con il destro palla che sfiora la traversa Ergen 5 secondi alla fine muore dal centro dell'area la numero 16 il cross palla sul secondo palo smanaccia Bacic per Pizzi però non c'è più tempo termina la prima frazione di gioco ha faticato ad accendersi Miriam Longo l'esordio in Serie A di Brodgard Bocchete discesa palla al piede Bocchete arriva al limite dell'area poi la finita il passaggio proprio Brodgard Brodgard va sul mancino calcia e trova l'1-0 per la Fiorentina il vizio del gol Ianato con la maglia del Rosengard lo sviluppa ora con quella della Fiorentina il primo pallone toccato nel suo campionato per tenuzza di Marino rivediamo lo slalom gigante di Veronica Bocchete che non invecchia mai Brodgard decide di giocare a biliardo sul tappeto della Viola Park oggi per merito di un Napoli super organizzato di Salvatore Mango ma vedi tre punti vicinissimi anche da partite come queste può nascere un rilancio Viola chissà forse ancora più ambizioso del terzo posto dello scorso anno Fischiatti in bocca per Pizzi che dice che basta così ha vinto la Fiorentina l'ho fatto per 1-0 Bocchete in bocca per sale oli Grazie a tutti